Avete pullato Arlecchino e non sapete bene come buildarla? Benissimo, questo è il video che fa per voi Ciao ragazzi, io sono Zergantis e finalmente benvenuti in questo ormai attesissimo video perché Arlecchino è finalmente uscita e io non vedevo l'ora di pullarla e di parlarne Ho trovato lei perdendo il 50-50 ma l'ho trovata poi nelle 20 pull successive L'arma mi ha fatto penare perché ho preso anche una Skyward Arp prima di lei però siamo in una condizione ormai ottimale per poter far vedere la padre DPS 5 stelle di tipo pyro, utilizza le lance, ha una meccanica di bundle life particolare che cercherò di snellire al massimo in questo video per cercare di renderla più semplice ma comunque nel caso tutte le informazioni le potrete trovare e approfondimenti in live oggi e tutti i giorni su Twitch Detto questo partiamo con i talenti, andiamo con le costellazioni, armi manufatti consigliati e poi team build Prima di parlare dei talenti di Arlecchino specifichiamo una cosa importante il suo meccanismo e la meccanica di questo personaggio si basa tutto su un nuovo principio in verità l'avevamo già visto in una spada a una mano e in un tomo ma che è il legame vitale, il bond of life ovvero quello stato in cui lei entra e che le riempe la barra della vita e lo vedremo tra poco in rosso sopra quella verde e che non le permette di essere curata tranne che da se stessa tramite una burst quindi più il suo bond of life, la sua barra rossa è alta più lei farà danno perché determina un moltiplicatore che va ad aggiungersi al suo attacco ma leggiamo il suo talento, il suo talento di attacchi base sono 6 colpi vabbè vedete la falce perché ho la sua arma quindi è l'unica cosa che si trasforma quindi è davvero figa ma se andiamo a vedere nella dicitura in fondo ci dice proprio maschera della morte rossa quando Arrecchino possiede almeno 30% di legame vitale dei suoi PS massimi entra nello stato maschera della morte rossa e i danni inflitti dei suoi attacchi normali caricati in picchiata vengono convertiti in danni da fuoco se Arrecchino è in questo stato i suoi attacchi normali infliggono danni aggiuntivi come vi dicevo del suo attacco moltiplicato per una data percentuale del legame vitale attuale in più ogni attacco normale che lei fa consuma il 7,5 del legame vitale quando il legame vitale viene consumato in questo modo il tempo di recupero di la sua skill che poi vedremo dopo viene ridotto dello 0,8% andando a vedere qui vedete gli incrementi e vedete anche tutte le statistiche che vi servono per capire quanti danni vengono fatti in attacco normale prima di andare a parlare di skill di burst, di cure, di non cure andiamo proprio a vedere per prima cosa questo legame vitale farò anche delle abilità non preoccupatevi l'importante è che ci soffermiamo un attimo proprio su quell'aspetto lì mi sono portato dietro Zhongli questo è un team che poi potremmo parlarne ma che funziona anche per essere un po' più tranquillo per quanto riguarda lo shielding eccetera eccetera allora partiamo con Arlecchino mettiamo uno aspettiamo un attimo 5 secondi poi ne parliamo tra poco si è sbloccato caricato boom ho legame vitale vedete legame vitale con la barretta rossa sopra la mia vita io ora attaccando lo sto consumando vedete piano piano continuo ad andare attaccando io non posso essere curato come vedete c'è un simbolino sopra che è il simbolo della non cura che è una croce con una sbarra infatti se io ora metto Arlecchino vedete che non viene curata dalla dalla burst di Bennett ma può venire curata soltanto in questo momento dalla sua burst boom toc refullata non è più il legame vitale andiamo a vedere che cosa è accaduto perché se no è un pochettino complicato l'abilità elementale cenere alla cenere lei cosa fa? lei infligge danni da piro ha più avversari quindi a o e e sfera un fendente in scatto contro i nemici gli avversari colpiti vengono marcati da che cosa? il debito di sangue che è quella croce che gli avete visto sopra il kianchi ciascuna direttiva dura 30 secondi infatti il tempo di ricarica dell'abilità è 30 secondi ma abbiamo dei modi per abbassarlo ogni 5 secondi viene inflitto all'avversario una interazione di danno piro per un massimo di 2 i danni inflitti in questo modo possono essere considerati danni da abilità elementare quando usiamo un attacco caricato e l'ho fatto prima oltre i pudi elementare arrecchino assorbe quella croce e la dissolve ciascuna direttiva gli da il 65% dei suoi PS massimi in legame vitale infatti si riempie la barretta del suo legame vitale facendo un attacco caricato entro 35 secondi dall'utilizzo dell'abilità elementare il valore massimo del legame vitali di arrecchino che può ottenere tramite le direttive del debito di sangue è il 145% dei suoi PS massimi usare nuovamente l'abilità in questo lasso di tempo il conteggio e la durata limite del massimo vengono vengono resettate questo va in combo col suo primo talento passivo che le dice arrecchino riceve un legame vitale del 130% dei suoi PS massimi quando un nemico che ha la X viene sconfitto oppure 5 secondi dopo e l'avete visto che mettete la X si potenzia e se noi l'assorbiamo la versione potenziata ci dà immediatamente il 130% del di legame vitale quindi la cosa interessante quale è cosa sarebbe da fare sarebbe da fare una skill applicare legame vitale girare fare le altre rotation aspettare che questo si sbocci vedete il fiore arrivare colpo caricato e vi caricate il legame vitale la barretta e a questo punto menare 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 tantissimo fino a che non scende il legame vitale che oltretutto menando abbassa il tempo di recupero della vostra abilità elementale per poi poter rifarlo ripartire o date una burst e vi curate come vi ho fatto vedere prima oppure lo fate ripartire partendo però da quella base di legame vitale che vi è rimasta se magari non avete bisogno di cure o se magari non avete dovuto performare la burst così facendo riuscite ad arrivare sempre quasi al massimo del suo legame vitale possibile e quindi cremettando la serie di combo le botte che le può dare dai suoi attacchi normali che è il talento principale più importante se noi andiamo a vedere ulteriori talenti il secondo è legida della forza lei scala su attacco e lo sappiamo ottiene un 1% di resistenza fisica e a tutti gli elementi per ogni 100 di attacco superiore a 1000 l'aumento di resistenza massimo che può ottenere così è del 20% quindi a 3000 di attacco lei ottiene il cap che è il 20% in questo caso io ho 2568 se vado a vedere ho il 15,7% di resistenza fuoco acqua dendro elettro anemo crio geo e fisica perché vado a sfruttare quelli serve poiché lei deve stare in campo menando continuamente con i suoi attacchi normali di conseguenza bacilla un po' dalle botte che va a prendere se non avete uno shield di conseguenza dovrete scattare e fare in modo di schivare gli attacchi e avere delle resistenze aggiuntive le permettono di 1 essere un pelo più resistente 2 prendere meno danni 3 visto che lei non può essere curata gli rende la possibilità di arrivare poi alla ricarica della sua burst per poter poi infine essere curata guardando come funziona su più nemici ora io qua mi rimetto di nuovo la skill andremo vedete a marchiare 3 nemici le particelle che noi andiamo a mettere non sono niente male lei non è male per nulla ora vabbè qua tiro dei danni che so senza senso sono pieno di legame vitale in questo momento e dalle iterazioni che vedete che vengono fatte da piro qualche particellina arriva in questo momento noi possiamo fare attacco caricato e burst così assorbiamo burst 14 14k di cure nel momento in cui io applico l'abilità elementale e lo meno una volta che ho assorbito guardate il tempo di recupero della skill come scende 14 13 12 11 praticamente è quasi un secondo a ogni attacco normale che facciamo dopo aver assorbito il potere del fuoco quindi il sigillo quindi noi abbiamo la possibilità per fortuna di ricaricare l'abilità elementale abbastanza velocemente nella sua combo e questo va un po' ad alzerare quella che era la mia preoccupazione ovvero oh mio dio ho 30 secondi di tempo di recupero non vi preoccupate perché va giù torniamo a leggere bene cosa fa la burst anche se ve l'ho fatta vedere Arlecchino fa la sua fiamma bla 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 invece ci danno più la d'aria e col tempo azzera il tempo di recupero della sua abilità elementale ripristina la vita in base all'attacco e al valore del suo legame vitale vi viene detto di quanto con 15 secondi di tempo di recupero 60 di costo di energia non costa molto lei tira fuori circa 5 particelle più su multi target almeno una o due dal singolo dal singolo personaggio marchiato e quindi un 120 130 di R è sicuramente valido ma diciamo che se ha anche una minimo di batteria a fianco non dovrebbe essere non dovrebbe essere un grosso un grosso problema una gran figata di sto personaggio perché se noi facciamo un attacco caricato poi vogliamo per 5 secondi e questo è molto Sephiroth è molto Sephiroth spero di non aver detto qualcosa di non corretto incompleto facciamo un attimo un giro in abisso così vediamo un po' bene un po' una rotation di questo team giusto per darvi un contesto ora ho messo la sua arma anche se all'80 perché volevo un attimino un attimino godermela di 1 2 3 arriva lei caricato e con la sua arma anche se non è al 90 fa paura fa abbastanza paura ragazzi c'è anche senza Bennett sotto tira delle sberle che fanno veramente spavento sono sbocciati burst burst carica e via ho la skill di nuovo pronta switch riprendo e via bam 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 40 40 40 la cosa che a me fa veramente stupire è quella andiamo a vedere adesso le costellazioni visto che molti di voi si stanno domandando ma è meglio la costellazione c1 o è meglio l'arma e ne avevamo già parlato prima di vedere la sua costellazione ricordiamoci che il bonus della maschera quale è il bonus è quel moltiplicatore che gli viene dato più quanto bond of life lei ha la costellazione beh il valore dell'incremento di maschera della morte rossa sale di un ulteriore 100% inoltre quando arlechino sfer attacchi normali o caricati sotto l'influsso di maschera dalla morte rossa la sua resistenza all'interruzione aumenta quindi già abbiamo la possibilità di non essere più interrotti quindi possiamo essere un po' più offensivi anche magari senza uno shield importante come magari quello di John Lee e in più sfondiamo più danni perché quel 100% lì è abbastanza enorme quindi riguarda questo la c1 o l'arma contando l'aumento dei danni che viene fatto dalla c1 e contando che comunque con un pennacchio bianco non è la migliore però con una premordial jade o comunque con altre armi che vedremo dopo lei ci dà e anche abbastanza bene mettersi lì a provare la fortuna su un banner assassino come quello armi di Genshin Impact secondo me non so quanto ne valga la pena però è una falce quindi molti di voi mi diranno sti cazzi voglio la falce personalmente dovessi pensare mirare le primo gem di Rai c1 andiamo avanti quando vengono applicate le direttive di debito di sangue diventano immediatamente ingiuzione del debito di sangue anche questo è già forte non devi aspettare 5 secondi anche se oggettivamente quei 5 secondi in rotation non sono male quando Arecchino assorbe queste le X spingiona una fiamma che fronta a sé che infine città di danni da più ad aria appare al 900% del suo attacco e la resistenza fisica e tutti gli elementi aumentano il 20% per 15 secondi questo effetto è settimana di 10 secondi me goioni me goioni quando Arecchino assorbe una direttiva del debito di sangue il tempo di recupero della sua burst si riduce di 2 secondi la sua energia elementare si ripristina di 15 quindi probabilmente non avete più bisogno neanche di R e infine la C6 i danni dalla burst aumentano in base all'attacco di Arecchino moltiplicato per il 700% della percentuale delle gambe vitale che ha per 20 secondi dopo aver usato la skill il tasso critico e il danno critico dell'attacco normale del tripudio elementare aumentano rispettivamente del 10 e del 70% vabbè qua esplode il pianeta però diciamo che la C1 è attualmente veramente veramente forte per questo 100% la C2 vi permette veramente di essere più rapidi ma al di là di quel mega bonus che è qua che sicuramente fa danni 5 secondi in attesa per il debito di sangue che si evolve è oggettivamente i secondi che vi servono per fare la rotation del vostro team quindi ok la C4 secondo me le permette di avere la burst sempre e la C6 è Dio diventa letteralmente il cavaliere dell'apocalisse quindi per ora C1 se proprio dovete ci sta è buona ora signori come al solito qui facciamo la ciabatta del destino nel senso che dovete equipaggiare quello che volete voi quello che credete sia giusto voi i miei sono solo consigli quindi se pensate che le armi che vi dico non valgano la pena oppure mi scrivete Zerga ma non hai detto quest'arma se non l'ho detta è perché io non credo che ne valga la pena se voi invece credete che ne valga la pena perché avete solo quella giocate solo quella in attesa magari domani di mettergli dell'altro ma questo non è il caso visto che una white tassel penso l'abbiate l'abbiate tutti quindi mi raccomando giocate come volete voi partiamo dal discorso manufatti discorso manufatti attuale è il seguente ovvero il suo set nuovo è il migliore punto che è questo qua scheggia di estro armonico con due pezzi da più 18% di attacco percentuale poi in quattro pezzi quando il valore di legame vitale aumenta o diminuisce il personaggio infige i danni aumentati di un 18% per 6 secondi e accumula 3 volte è evidente che è un set che è dipinto su di lei non c'è cazzi però però abbiamo delle validissime alternative una di queste è quella che avete visto fino adesso è un gladiator che probabilmente voi avrete sia per l'attacco ma anche per il fatto che essendo che lei usa una lancia i danni inflitti e il suo attacco normale ometterlo del 35% lei è tutto danni inflitti visto che dei suoi talenti li spareremo prima danni inflitti corona poi burst e poi skill ma burst e skill potete farli salire abbastanza disieme questo è un set che penso abbiate tutti e che è anche abbastanza reperibile negli anni e nel tempo che potete assolutamente metterli un altro set che potete tranquillamente metterli laddove l'abbiate farmato come non ci fossero domani è il sono i dorati perché ovviamente ha la maestria elementale e penso che sia chiaro che se avete un dps piro la maggior parte di quello che farete sarà danno anche poi da reazione visto che lo giocherete con gli idro lo giocherete con i trio lo giocherete con gli elettro o con sciavrosi in overload lo giocherete anche c'è anche una versione monogio che in questo caso allora non va però per la maestria però la maggior parte dei personaggi dps piro uta o di luk yanfe ikli diciamo che abbracciano parecchio krio e vapo inoltre 8 secondi dopo averte attivato una reazione elementale il personaggio ottiene degli effetti positivi l'attacco aumenta del 14% per ogni membro del gruppo il cui elemento corrisponde a quello del personaggio quindi burgion per dirvi questo anche ottimo e la maestria elementale aumenta per ogni membro del gruppo con un elementale diverso quindi potete comunque fare leva anche su questo set possiamo volendo andarci a giocare anche il l'ecos perché l'attacco del 28% quando attacchi normali colpiscono l'avversario hai il 36% di probabilità di innescare il rito della valle che aumenta i danni d'attacco normali del 70% dell'attacco questo effetto si disperde ogni 0,05 secondi dopo che il danno d'attacco normale infligge del danno se non riuscite a farlo l'effetto dopo al 20% in più di possibilità di farlo è un po' il torna l'otto se non avete le connessioni buone e un pochettino ballerine vi manda un pochettino un pochettino al manicomio in alternativa molti vi starete chiedendo Zerga ma la Shimenawa è fatta apposta per lei ni cioè sempre attacco percentuale quando il personaggio con almeno 15 di energia usa un'abilità elementale perde 15 di energia i danni d'attacco normale caricato e picchiato aumentano il 50% per 10 secondi tenete conto che voi dovete stare super attenti non dico che non si possa usare ma dovete stare super attenti alla sua skill alla sua burst dovete avere abbastanza particelle dovete avere abbastanza energia per fare sì che lei possa curarsi perché se no rischiate veramente grosso con degli shield importanti può essere anche questa un'alternativa come potrebbe esserlo ad esempio ne parlavamo anche l'altro giorno di un crimson perché bonus danni da piro li andiamo a aumentare e poi qua ci sarebbe tutto il discorso della coppa in piro coppa in attacco ma tendenzialmente si va a coppa in piro sempre aumenta i danni da sovraccarico ustione germinazione vaporizzazione fusione usare l'abilità elementare aumenta il bonus del set tra due pezzi del 50% per 10 secondi accumulabile tra volte potreste utare anche questo però onestamente in questo momento il mio consiglio spudorato è veramente mentre state se vi piace il personaggio mentre state farmando per tirare fuori il set nuovo dategli un gladiator e non pensateci e non pensateci più poi ovviamente ci sono cose aggiuntive in base ai team che fate bla 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 stat facili attacco percento è un dps attacco percentuale tiro damage bonus tasso critico danno critico avete l'arma in tasso critico danno critico avete l'arma in danno critico danno in tasso critico contate che lei scala in danno critico quindi è consigliabile un'arma in tasso critico o comunque avere tasso critico come substat substat vogliamo attacco percentuale tasso danno un pelo di r se la volete oppure m quindi siamo lì io per dirvi ho tirato fuori al di là di questo che è il pezzo più brutto che ho ho tirato fuori attacco tasso danno qua in questo caso danno tasso attacco attacco tasso danno maestria attacco tasso danno e via e via e via quindi questi sono i set che io vi consiglio a livello di armi ora come al solito bestie slot la sua arma forma della luna cremisi è la migliore per lei purtroppo al day one non la potete fare a 90 a meno che non abbiate degli amici che si sacrifichino per voi nella seconda fase della mappa nuova e vi dicano guarda io assolutamente non ho intenzione di toccarti le statue perché per potenziarla avete bisogno delle staffe dei lense perdonatemi dei cavalieri nuovi e quindi arriverete probabilmente come me a questo punto anche se in teoria c'è una possibilità che è non neanche stavo per dirvi quella del ne mettete dentro c'è una possibilità che è quella di utilizzare tutte le vostre star glitter per ottenere 18 di questi dal negozio però non lasciate perdere fatelo domani buonanotte è enorme perché arriverà arriva poi a superare i 600 di attacco base il tasso critico arriva al 22 quando un attacco caricato colpisce un avversario e noi li facciamo perché lo vediamo dopo che abbiamo messo la X vi ricordate vogliamo ottenere il danno piro grazie all'attacco caricato il personaggio che equipaggia l'arma ottiene legame vitale pari al 25% dei suoi PS quindi questo vi va a aumentare anche va a sommarsi alle gambe vitale che ottenete di quel 130% famoso questo effetto può attivarsi una sola volta nei 14 secondi in più quando possiede legame vitale ottiene il 12% di bonus danni il valore di legame vitale è superiore al 30% dei PS massimi questo valore aumenta di un ulteriore 24% chiaramente questo è raffinabile quindi questa è la sua best slot e da qui raga non ci muoviamo poi premordial jade assolutamente validissima arma che per lei va benissimo pastone delle sabbie scarlatte sia per il tasso critico sia per il bonus dell'attacco in base alla mestiere elementale oma funziona da dio per il tasso critico per l'attacco base i PS aumentano e non ci fa schifo avere un po' più di PS soprattutto se si convertono in attacco alla grande gli potete giocare volendo ma a me non piace anche la quiller ma secondo me è brutta su di lei perché non sfruttate il bonus raddoppiato del fuori dal combattimento vortex però in attacco se avete uno shield forte non avete alternative e a questo punto le permettete di avere il bonus dell'attacco in base e l'efficacia dello scudo aumentato ma delle 5 stelle le migliori ve le ho già elencate per quanto riguarda le 4 stelle deadmatch con tasso critico e l'aumento dell'attacco e della difesa in base ai nemici che abbiamo poi avete la ballata dei fiordi che aumenta il tasso critico e inoltre ovviamente alla maestria elementare se ci sono almeno 3 tipi di elementi diversi nel party può sembrare una presa può sembrare una presa in giro ma la missiva del vento si può giocare perché va in attacco e dopo che avete innescato una reazione lamentate l'attacco del 24% e la maestria elementare di 96 ci sta dovete bilanciare ovviamente il tasso critico e danno critico dovete stare un po' all'occhio da quel punto di vista lì mi sono ovviamente dimenticato ma perché nel parlare non ce l'ho la black leaf quindi la rupe nera che va in danno critico quella me la dimentico me la dimentico me la dimentico sempre ma se volete proprio non avere pensieri non sbattervi risparmiare tutto per clonino eccetera pennacchio bianco ok attacco base basso se ce l'avete r5 avete 23 4 di tasso critico e l'aumento i danni d'attacco normale che sono quelli grossi del 48% penso di avervi già fatto vedere i danni d'attacco normale con la pennacchio bianco se non ve li ho fatti vedere ve li faccio vedere a breve in un showcase quindi alla fine vi ho date alternative so che molti mi chiederanno ma la dragon's bane ma la litik ma io non ce l'ho ma io c'ho quest'altra eccetera raga se non ve lo elencate non vuol dire che non sono giocabili ma sono armi che io non giocherei questa è la proprio la dura e cruda verità senza problemi senza pensieri patichiare amicizia lunga adesso parliamo dei team e non sono così diversi da quelli che si giocano normalmente su un main dps di tipo fuoco per dirvi arlecchino con cosa giocherà giocherà bene con stinciu o con ye lan perché appunto grazie alle loro alle loro burst vanno ad applicare a fare danni di tipo idro negli attacchi normali di arlecchino che sono infusi di piro quindi reazioni 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 vapo 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 con un bennett per il noblesse oblige per l'aumento dei danni per la sua burst che gli fa aumentare anche i 6 danni e per la questione del leading che però non conta su di lei ma in generale è super buono anche per la risonanza elementale che vi dà l'aumento dell'attacco del 25% quindi arrivate sempre a 3000 state sereni e a quel punto poi vi dovete gestire voi se mettere un Zhongli per lo scudo se mettere magari un Kazua o una Sacros o un 20 per fare delle risonanze da Nemo oppure magari vi giocate qualcosa di tipo Crio per andare a fare poi il congelamento potete metterci non lo so una Rosaria se avete bisogno di tasso critico io potete mettere non lo so magari anche una Charlotte al posto di Bennett o addirittura insieme a Bennett ci sono un po' di alternative che potete che potete andare un pochettino a posizionarvi addirittura se volete metterci uno scudo una Laila potrebbe avere il suo senso se non avete il suo grido eccetera possiamo inoltre spingerci verso un tendente al monopiro che cosa vuol dire? vuol dire che qua possiamo metterci una Sha Ling qua possiamo metterci un Bennett e aggiungerci in questo caso però un cazzo quindi non è veramente un monopiro ma è semplicemente un Nossuirle un incremento dei danni e una riduzione della resistenza del fuoco e un Arlecchino con una Sha Ling attorno con i bonus di Bennett e il povero Goomba che gli dà il peperoncino un Arlecchino che se non ci sono resistenze o annullamenti di fuoco dall'altra parte diventa un carro armato possiamo giocarla ironicamente anche con un Idro e un doppio Geo so che non è proprio bellissimo per molti di voi non si gioca con Forina sto personaggio ve lo dico già non funziona perché chiaramente Forina vi abbassa la vita e lei se ti abbassa la vita è un personaggio in cui non sei scudato e non puoi più tirarla su perché legame vitale ti serve un carro però a meno che non facciate la Burst ma la Burst ha un tempo di ricarica e avete visto come funziona e in questo caso possiamo metterli per dirvi un Aciori o addirittura un Albedo che forse in alcuni casi è meglio per la maestria elementale potete fare anche un team di questo tipo potete giocarci nel team Monopiro anche Toma per avere uno scudo in più infine abbiamo il team Overload che è il team che personalmente voglio anche andare a provare il prima possibile lo faremo live perché perché ci giochiamo la carta Chavreuse quindi da una parte qui avremo la nostra Soldatina avremo il nostro Arlecchino avremo Fischel o Iaimico oppure anche sì Fischel Iaimico direi che sono le due che si possono giocare meglio ora io sono cieco e quindi in questo caso mi metto Iaimico e in fondo mettiamo l'altro Eletro perché vi ricordo che Chavreuse ha la condizione che devono esserci solo personaggi Piro ed Eletro potete fare o una Beiduci 1 per avere lo scudo un pochettino più decente e sarebbe interessante giocarla in questo caso potete giocarla se no in alternativa con un altro Shield di tipo Fuoco però fareste 3 Piro e un Eletro a quel punto sarebbe per dirvi un Toma un Toma con uno scudo che secondo me potrebbe andare più che bene però a quel punto dovreste vedere bene la Build vedere se giocarlo in Mill Elite giocarlo solo in quella sua forma e magari non giocarlo in altro quindi questo potrebbe avere anche un suo risvolto di questo tipo per quanto riguarda il Burgion la giocate con Naida la giocate con un Hydro e poi a quel punto gli ficate dentro un un altro un altro Piro o un altro Dendro e fate più o meno voi questo è un team che mi piacerebbe mi piace un casino e lo voglio assolutamente assolutamente giocare lo andiamo a provare con una White Tassel siamo con 2127 di attacco 57-6 2-10 lo gioco con un Gladiator e il talento ovviamente al 6 perché per farlo più del 6 mi serve battere Arlechino e non volevo distruggermi la sua quest volevo godermela un attimo quindi non sono andato proprio avantissimo facciamo l'opening con la sua skill che me lo dimentico sempre vado dal pollo perché di là ho già dei nemici in cooldown e non va bene quindi skill subito paletti 1-2-3 paletti facciamo la skill vediamo di avere una Burst carichiamo a posto prendiamo il Band of Life e questi sono i danni che li andiamo a fare in che li andiamo a fare in Overload sono un po' più bassini rispetto a quelli che andavo a fare in Vapo però comunque sono veramente veramente belli con un pennacchio bianco senza neanche il talento tirato su con la forma della Luna Cremisi erano di più erano di più signori io spero che questo video sia stato chiaro se avete dei dubbi non temete scrivetemelo pure nei commenti venite in live cerchiamo di chiarirveli lo so che la Bond of Life è una nuova meccanica e che potreste avere delle perplessità ma non temete a suon di provarla a suon di giocarla vi verrà naturale ed è più semplice di quello che immaginate arriverete al punto che lo guarderete ogni tanto la barra della vita con la coda dell'occhio io vi ringrazio tantissimo per la vostra cortese attenzione vi invito a iscrivervi se non avete ancora fatto lasciami un like e a seguirmi anche su tutti i miei altri social vi aspetto su Twitch United State of Zerga ciao belli ciao